Cari amici, ci troviamo in pizzeria per il Dopo Recital. Si è svolto stasera un recital a Borgo Parrini, un recital organizzato dal professore Salvo Vitale e un gruppetto di poeti amici intimi e siamo qui in pizzeria per gustare la pizza di Borgo Parrini. Ed è un grande piacere per me stasera leggere una poesia che ha scritto l'amico Pietro Vizzini che ringrazio, una poesia dedicata a San Giuseppe. Io sono devoto al massimo al 100% di San Giuseppe, quindi quando c'è una poesia di San Giuseppe si deve recitare, viva sempre San Giuseppe. Tra poco tra l'altro è Pietro e anche la testa del papà. Il 19 marzo si festeggia San Giuseppe, anzi vi aspetta al Palazzo del Carmine per il mega recital dedicato alla festa del papà. Ma leggiamo la poesia del mio grande amico Pietro Vizzini a San Giuseppe. San Giuseppe ti preghiamo di parlare col Signore per la grazia che chiediamo. Ti lodiamo in processione per far fede alla promessa con la nostra devozione. benedici l'altare nella casa di ogni bambino, il pane e il cibo che ci offre ogni immensa vicino. Mostrati Padre anche per noi, unisci i nostri fratelli ai nostri figli lontani, proteggici da tutti i mali con conforto per ogni dolore. guidarci con amore nel cammino di domani. Dietro Vizzini, è meraviglioso. Un bacio. Bravo, bravo, bravo Pietro!